La Megabox Vallefoglia sbarca su Rossini TV. Ogni mercoledì alle 21.20 il Canale 80 vi mostrerà gli occhi della Tigre, titolo del nuovo format sportivo di Rossini TV che porterà alla scoperta di vita e passioni, non solo sportive, delle giocatrici della Megabox squadra di pallavolo femminile impegnata per il terzo anno consecutivo nella massima serie nazionale. Dopo due anni a Urbino, la Megabox quest'anno ha preso residenza a Pesolo giocando le sue partite casalinghe al padiglione di Di Campanara, non a caso ribattezzato Pala Megabox. Gli occhi della Tigre comincia dunque il 6 di dicembre in un momento particolarmente sorridente per le Tigri, reduce da due vittorie consecutive e dal primo successo a Pesolo arrivato domenica al cospetto del Bisonte Firenze. Ora non resta che scoprire i primi occhi della Tigre, quelli della schiacciatrice Beatrice Gardini, mercoledì 6 dicembre alle 21.20 su Rossini TV.